Ciao a tutti! È tempo di vacanze e c'è bisogno di riposarsi. Oggi voglio condividere con voi i sette tipi di riposo. Quello fisico, sia attivo che passivo. Quello mentale, quello sensoriale, quello creativo, quello emotivo, quello sociale e quello spirituale. Auguro a tutti buone vacanze, sempre concentrati. Concentrazione, concentrati in azione.